ciao a tutti ben ritrovati ancora una volta con il nostro canale la nostra pagina i bijoux di ricche questo è un altro outfit che vi proponiamo quest'oggi ci occupiamo del colore azzurro un colore che può essere sia estivo che primaverile ea questo colore andremo abbinare alcune bigiotterie appunto che sono stati realizzati da noi allora questa è una semplice maglia oppure un toppino come lo volete chiamare una canotta e può essere indossata sia con una gonna che un pantalone sia sul genere sportivo che il genere elegante la prima collana che andiamo abbinare è questa eccola qua è una collana realizzata da riccardo qualche tempo fa praticamente in ottone allora abbiamo sbagliato la giriamo dalla parte giusta allora è in ottone poi vi metterò le foto e in modo che si vedrà ancora meglio e all'interno è stato inserito questo nastrino con i brillantini e queste sono le perline o si indossa semplicemente la collana e insieme abbinato c'è questo bracciale che richiama al nastrino all'interno della collana quindi collana e bracciale quest'oggi daremo anche dei consigli per abbinare nella maniera giusta la bigiotteria oppure possiamo scegliere questa versione adesso vi facciamo vedere subito questa collana qui eccola questo è un altro dei nostri lavori è una collana tutta intrecciata molto carina molto estiva e molto particolare in questo caso andremo a indossare solo praticamente come accessorio questa collana perché già è una collana importante no come potete vedere al massimo possiamo solamente abbinare questi orecchini quindi o abbiniamo una cosa sola o due e la seconda è una cosa abbastanza semplice dovrebbe essere eccola qui oppure andremo ad indossare praticamente la nessuna collana ma metteremo questi orecchini qua eccoli anche questa è una nostra creazione non bisogna mai esagerare perché protagonista deve essere un accessorio solo già questi sono degli orecchini importanti da indossare magari nel tardo pomeriggio in serata non adatti alla mattina oppure potremo fare questo abbinamento nessuna collana ma questo bracciale questo non è il nostro artigianato però c'è da specificarlo è un bracciale stile indiano al quale andremo ad abbinare bracciale ed orecchini vedete richiamano oppure possiamo fare quest'altro abbinamento questo bracciale realizzato sempre da noi abbiamo due catenelle d'ottone e due perline tutte luccicanti e adesso andremo ad abbinare gli orecchini facciamo una panoramica io spero che questo video vi sia stato utile e niente vi ringrazio per l'attenzione mi raccomando continuate sempre a seguirci se avete alcune idee suggerite scrivete insomma fateci sapere ciao a tutti alla prossima